... G8 Non c'è il primo cazzo adesso, è passato, è morto Ragazzi, non ti di là, di là, dai, non siamo qua dentro Ma siete libero? Un altro cantino, volete? Amarena, Amarena, Amarena Gaena, Gaena, Gaena Questa tascia nera è quella che può prendere tutti i tribunali Il sindaco di Pascino stamattina ha partecipato alla manifestazione e ha comunicato che si chiama, ma intanto quella donna viene scoprata. No, io intervengo anche con un bastone e glielo vede in testa, questa era la violenza a quei cuccioli solitari uniti, siamo qui, tutti uniti. No, ti finiamo, spero che la notte viena un po' di cittadini incalzati con noi, spero che stiano con noi, devo far vedere una delle magliette che abbiamo.